e vai e vai prendiamo il Villareal e non lo sport in Lisbona ecco qua col culo di merda di Allegri che non cambia non cambia perché non cambia perché comunque se è arrivato a culo primo nel girone ha evitato le squadre più forti quindi comunque il Villareal è una squadra di seconda terza fascia comunque non è una squadra top 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 che il Manchester United sta sulla seconda fascia a livello di forza poi ci sono le prime e il Villareal sta lì o subito dopo seconda terza fascia quindi comunque Allegri non c'è scuse comunque non c'è scuse quindi sia chiaro ok e poi che è successo ai merda azzurri che stavano festeggiando per aver trovato l'Ajax e poi l'ho trovato e poi dopo illusione il Liverpool si merda si merda si godo godo si si gode merda vi sta bene al Liverpool e al Liverpool e le buscate le buscate le mazzate le mazzate si si